Salve, sono Goffredo Manzo, sono formatore scuola oltre e dirigente scolastico. Sono qui per invitarvi a seguire questo corso sulla geometria nella scuola primaria perché lo ritengo un corso innovativo dove affronteremo delle strategie nuove per insegnare questa bellissima materia che è la geometria. Perché? Perché sia come docente, essendo io un ex docente di scuola secondaria al primo grado di matematica, che come dirigente scolastico mi sono chiesto perché la geometria e la matematica devono essere così noiose. E quindi ho studiato e ho sviluppato e ho visto che ci sono delle strategie meravigliose, giocose, dove si evita la mera memorizzazione di formule che ci permettono a noi come docenti e ai bambini di imparare senza annoiarsi. Utilizzeremo il geopiano e altre attività e svilupperemo soprattutto dei giochi per apprendere al meglio. Quindi che dire, vi aspetto numerosi e iscrivetevi. Ciao, a presto! Grazie a tutti!